We are back in the Kandupesk Challenge! Posso dirlo in qualsiasi lingua, ma la difficoltà rimarrà sempre la stessa. Mi raccomando ragazzi, per tutte le skin che usciranno, per il prossimo pass battaglia, utilizzate il codice che dovresti stabilire in un negozio e taggatevi su Instagram che vi ricondivido e vi rispondo. Spolliciate, commentate, scrivete e attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione! Bene ragazzi, questo è mi effetto, ora vi con un nuovissimo video della serie di Fortnite sul mio canale. La Kandupesk Challenge è tornata prorompente. Ho messo una delle skin che è uscita di recente nel negozio, davvero molto figa. Mi ricorda lontanamente la Renegade Rider, quindi l'ho comprata istantaneamente. Vi ripeto velocissimamente le regole, abbiamo 3 slash 4 partite a disposizione per vincere utilizzando solo le armi che abbiamo pescato con l'arpione o con la canale a pesca. Finirà male, sappiatelo. Sarebbe un po' sprecato atterrare a Slurpee Swamp, perché all'inizio ci vengono praticamente tutti. Mi sa tanto che opteremo per il laghetto centrale. Sì, dai, perché no? Lazy Lake è figo, questo lago qua. Soltanto che ci sono troppe persone nei paraggi e noi dobbiamo trovare delle armi, altrimenti siamo fregati. Spero con tutto il cuore di aver fatto un buon atterraggio. Sono un po' arrugginito, sono ancora malaticcio, quindi perdonatemi ogni errore, vi prego. Ehi là, ma quanta gente sta venendo in questo posto, scusate, non va per niente bene. C'è una trappola, questa la voglio io. Absolutely, absolutely, grazie. Vai piccolo Stepney, vai. Mi stanno sparando, questa cosa non piace. Scappiamo col motoscafo alla ricerca di un futuro più raggiante. Dammi un'arma, ti prego, dammi un'arma. Oh, sei impazzito? No! Ma questo che caspita ci faceva qui? Va bene, facciamo che questa partita non conta. Più che altro, forse non ha avuto molto senso atterrare al centro della mappa. Vediamo un po' chi avrà il coraggio di mettersi sulla nostra strada. Chiunque probabilmente, ma sti cavoli. Opterei per il laghetto, perché tutti qua vanno nella città. Non vengono nel laghetto, devo pensarci prima, sono un pirla. E poi, sgadabren! Me ne torno indietro. Lo sgadabren è fondamentale. Dammi un'arma e non ci pensiamo più. Va bene, i pesci sono fighi, ma un'arma lo è molto di più. Ti prego, dai, ti prego. Ma perché? Dammi un'arma e vedrai che non ti deluderò. Questo è un pesce. Una qualsiasi arma andrà benissimo. No, continuo a darmi i pesci, raga, siamo fregati. Dammi un'arma. Finalmente. Un fucile a pompa e non ci si pensa più. Come on, baby. Come on. Ovviamente non abbiamo alcuna fretta di ingaggiare i combattimenti. Quindi, con calma, possiamo continuare a pescare. Mi sta dando veramente una marea di pesci. Oh, mio Dio, ragazzi. No way. Questa è la mia occasione. Adesso farmiamo un po' e non possiamo sbagliare, eh. Non è concesso. Io non ci posso credere che mi abbia dato il pump sul serio. Ti voglio bene, gioco. Ti voglio bene. Questo che cosa... Ma non può esserci un campanello. Ma... Ma vaffan cuore. Ho preso un arpione. Intanto per prendere altri pesci. Boda che roba. Mamma mia. Otto pesci normali e tre slurp fish. Siamo devastanti. Give me the scar. Give me the scar. Oddio. Altri due slurp fish. Crazy, man. Ehi là. No, eh. Chi è che ha interrotto Stepney? Eccolo il nostro amico. Beh, io ti aspetto qua. Non è assolutamente un problema per me. Anzi, ti dirò di più. Boom. Beccati sti danni, va. No! Non esiste che moriamo così mai nella vita. Calma. What? What? 50 in headshot da due centimetri. Raga, è impossibile. Ma come ho fatto a morire da questo tizio? Non perdiamoci subito d'animo. Che è l'errore più comune che potremo commettere. Ce ne andiamo a Slurpee Swamp. Mannaggia il pump quanto sto rosicando. Vediamo un po'. C'è qualcuno che atterra qua giù in fondo. Poi mi spiegheranno il motivo, sinceramente. Dammi un po' staggeggio. Ti prego, dammi un'arma subito che non ci si pensa più. Mi stanno sparando. Tu sei pazzo? Me ne vado, raga. Me ne vado. Non voglio morire da quel tizio lì, eh. Oh! Ma sei matto? Ma sei fuori? Ma... Mannaggia a te, mannaggia. Sta ancora inseguendo. Basta! Non lo so, assurdo. Ok. That's how we roll right now. Siamo pure in zona sicura. Quindi va bene così. Una R qualsiasi sarebbe meraviglioso. Una pistola. Ok. Tutte armi blu? Cannada pesca deltaplano challenge. Un mix. Che cosa riusciamo a combinare di bello qui? Prendiamo un altro pesciolino, magari. Un SMG è davvero tanta roba. Mi tengo quattro armi blu. Tutte blu stavolta. Assurdo. Io però non vorrei che questa challenge fosse lutare e poi morire. E basta. Cioè, vinciamo, raga. Vi prego. C'è qualcuno? No! No. Non bello. Dai. No. No. No! 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 No, dai! No, basta! No, basta! Raga, mi stanno letteralmente devastando. Piccolo stepney, mantieni la calma. Tu sai di potercela fare. È solo bisogno di concentrazione possibile che non riesco a vincere un combattimento. Ce ne torniamo al laghetto. Prima ci aveva portato molta fortuna. Speriamo che stavolta sia uguale a prima. Oh mio Dio. Chi è? Grazie. L'arpione non lo trovo mai. Mello che non sia qua dentro. E infatti è qua dentro. Incredibile. Dai! Forza! Tira fuori qualcosa di buono. P90! Tanta roba sto P90, raga. Io so però che il gioco può fare molto di più di questo. Dai, io spero in un po' di fortuna. Eccolo. 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 Oh, cos'è che ho hittato? Intanto ci mangiamo questo. Vogliamo andare a fare un po' di caos anche noi? Beh, diciamo che adesso le cose si mettono in un modo un po' diverso, eh. Abbiamo trovato anche il fusce d'assalto. Oh! Oh mio Dio! No way! No way! No way! No way! No way! No way! Pampo leggendario! Oh mio Dio! Error 404 step in not found. Che culo, raga. Io ve l'ho detto che il lago porta una fortuna infinita. Questa è senza alcun dubbio la nostra seconda occasione. in questa sfida per quest'oggi. Abbiamo la R blu, il Pamp leggendario e il P90 viola. Sette pesci. Va bene, dai. È perfetto, raga. Non potrei fare... Oddio! È un lama? Oh mio Dio, no. No way! Non pensavo ci fosse qualcosa di meglio di quello che avevamo, ma lo abbiamo appena trovato. C'è qualcuno che sta usando il falò là. Preso in pieno. Sto arrivando piccoletto, giuro che non ti abbandonerò! Eccomi! No way, il super lama! This is incredible, man! Io avrò peso un po' di danno, ma chi se ne frega, raga. Abbiamo una marea di mazza adesso. C'hai capito? Fai così, pit stop al volo, mangi un pesce, tac, ne prendi un altro e riparti. No! Cecchinato no, eh. Cecchinato no. Non ci credo, non ci credo. Guarda che infame. Oh my God! Sì, ragazzi, l'abbiamo ucciso! Io non ci posso e non ci voglio credere che questo tizio mi ha fatto perdere tutto questo tempo. Lo faccio per voi, amici! Vai! Medikit is good. Spostati! Mamma mia, raga, eh. Se vinciamo questo, uh, cosa abbiamo fatto? Ma vi rendete conto il tizio mi ha cecchinato? Ma che fortuna puoi avere a cecchinarmi in quel modo. Una pescata con un bel pesce normale. Va bene, qualsiasi cosa. Perfetto. Mangia, mangia, mangia. Stepney is still alive, baby! Sbaglio, davanti a me c'è tipo un massacro totale, eh. Oh my God. No. Un solo obiettivo. Andare in zona sicura. Scudini? 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 Neanche uno. Tre scudini. Ok. Thank you very much. C'è qualcuno, eh. No! 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 Ma perché? Ma che cosa ho fatto di male io? Ma non è possibile! Cosa devi fare per provare a vincere una partita? Ma che bello! Non abbiamo fatto niente, siamo già in top 30. Ehi, ma quella è la mia amata Craigie Cliff. Stai a vedere che quest'ultima partita è quella decisiva. Andare al bagno is the new metagame. Non so quante volte ve l'ho detto già. Dai, su! Uè! La super cassa addirittura. Facciamo così. Vediamo la prossima 50. E recuperiamo il bandage bazooka. Solo cure per il piccolo Stepney. Giuro, se mi dai un fucile a pompa mi basta e mi avanza. Lo giuro, eh. In realtà col bazooka delle bende possiamo anche prendercela un po' più comoda. Il discorso è che non ci sono armi. That's how you win a canna da pesca challenge, baby! Dove sta andando la mia barca? No, no, non si fa così. Sono passati tre mesi dal capitolo 2 e io ancora la chiamo barca. Quando è palesemente un motoscafo. Scrivete nei commenti se anche voi la chiamate barca o sono l'unico scemo. Spare andu bende e si pesca qualcosa. Un bel fucile a pompa, baby. La pistola. Dai, su! Su! Su via! La R è molto buono, eh. Non è un pompa. Siamo pienamente d'accordo. Ma è molto buono. Mi accontento era... Eccoci. Mi hanno appena sparato di brutto. Mi hanno fatto male. E noi ce ne andiamo zitti, zitti da quest'altra parte. Io noto con piacere che tra l'altro laggiù stanno combattendo un botto. Eccolo. Headshot! È bianco? Muori! Sì! Sì! Mangia questo. Prendi altri scudini. Abbiamo ucciso un tizio con la R che aveva tutto. Aveva tutto, ovviamente adesso non posso raccogliere niente le sue robe. E vai! In compenso abbiamo quattro trappole. Sarebbe figo uccidere tutti con le trappole. Non è che tante volte hai un fucile a pompa in più che non usi, che non ti serve, che vuoi dare a Stepney. No, eh. Giuro che se mi dai un fucile a pompa non mi arrabbio più su questo gioco. Lo giuro! Non mi arrabbio più! Farò il bravo! Sarò un bravo giocatore che non sclera per niente, vero? Ma te l'ho giurato! Ma ti pare che ti frego in questo... Uh, vabbè, altri due di questi ora sono buoni, eh. Se mi dai un pompa qua, bene. Altrimenti riprendo i pesci. Il cecchino. Il cecchino. Che me ne faccio del cecchino? Oh, no, 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 no. Eh, vabbè. Ho pescato un pesce e devo mangiarlo subito. Ma che fregatura. Ma che sta facendo sto tizio, raga? What the hell? Mi stava piccolando per cosa, essenzialmente? Non l'ho capito. Io direi che, essendo l'ultima partita... Non ce la campe... Uh, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no! Oh, my God. This is crazy, man. No. No! Mi sono incastrato, ma non so neanche io come! La canna da pesca challenge, raga, non si può più fare. Vuoi provarci quanto ti pare in tutte le salse del mondo? Ma non ha senso. Ci sarà sempre qualcuno che ha un fucile a pompa. E tu no, perché tu stai facendo la canna da pesca challenge e trovi solo AR e fucile a cecchino. E dai. Mi sa tanto che se Fortnite col capitolo 2 non fa una rivoluzione, questo gioco è letteralmente morto. Io spero che vi state divertiti. Se è così stato spolliciato, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Noi ci vediamo nei prossimi video. Qua sia per tutto. Vale! No, eh? Cos'è che ho visto? Solo platform cash cap? Pericoloso! Non so se lo voglio fare veramente.